Benvenuti su Italia Dorata, il canale dove potete trovare tutte le ultime notizie dall'Italia. Siamo orgogliosi di portare avanti la tradizione del giornalismo italiano, offrendovi notizie accurate e imparziali su tutto ciò che riguarda il nostro amato paese. Quindi, senza ulteriori indugi, cominciamo il nostro servizio informativo di oggi. Sull'omicidio di Alessandra Matteuzzi, 56 anni, emergono nuovi particolari. L'ex fidanzato e calciatore 27N Giovanni Padovani nei mesi precedenti l'uccisione condivise, in una chat di gruppo con i suoi compagni di squadra, video dei suoi rapporti sessuali con altre donne. Per gli investigatori appare plausibile ritenere che sia stato Padovani e non Matteuzzi, come invece lui aveva più volte detto, ad aver tradito in varie occasioni, attuando condotte delle quali non ha esitato a divulgare informazioni e video vantandosi con ex compagni di squadra. Il 3 maggio avrà inizio il processo. Secondo quanto emerge dall'analisi del telefono, depositata agli atti, risultano conversazioni con altre donne, tra febbraio e agosto 2022, quando avvenne il delitto. I filmati, non databili, sono tre, uno con una prima donna e altri due con una seconda, diverse da Alessandra. Padovani li condivise a giugno. E nelle note del telefono il calciatore dilettante scriveva i nomi delle donne che frequentava, annotando anche particolari sui rapporti sessuali. È possibile, secondo una serie di verifiche tecniche svolte, che Giovanni Padovani si sia effettivamente arrampicato sul balcone della casa dove viveva l'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. A queste conclusioni sono arrivate le indagini della squadra mobile della Questura di Bologna, che hanno riscontrato le dichiarazioni fatte dall'indagato nell'interrogatorio del 15 febbraio 2023, quando negò la circostanza. L'episodio risalirebbe a tempo prima del delitto, avvenuto proprio sotto casa della donna, in via dell'Arcoveggio, il 23 agosto 2022. L'attività tecnica eseguita, con valutazioni fotografiche, planimetriche e rilevazioni metriche, anche alla luce della dimostrata prestanza fisica di Padovani, atleta e calciatore alto circa 1 metro e 90, ha concluso per la possibilità che abbia compiuto tale azione. E questo è tutto per le notizie di oggi su Italia Dorata. Siamo sempre qui per tenervi aggiornati sulle ultime novità dall'Italia e per portarvi notizie, approfondimenti e curiosità sul nostro amato paese. Continuate a seguirci per le ultime notizie e per scoprire tutto ciò che c'è da sapere sull'Italia. Alla prossima volta e spero che l'Italia continui a brillare come l'oro.